Cari amici runner, benvenuti in questa nuova puntata. GPS, GLONASS o Galileo sono sistemi computerizzati di copertura planetaria che consentono di sfruttare i segnali emessi da alcuni satelliti per localizzare cose e persone sulla superficie terrestre. Questa localizzazione è precisa? Vediamo cosa dice Garmin. La precisione della localizzazione degli orologi outdoor Garmin è all'incirca di 3 metri, 10 piedi, nel 95% dei casi. Ciò significa che, in qualsiasi condizione, il tuo orologio salverà la posizione entro 3 metri da quella reale in cui ti trovi. Guardiamo questo grafico. Simulando di aver impostato sul nostro dispositivo rilevamento ogni secondo, pur correndo sulla linea verde, il nostro dispositivo rileverà la posizione molto spesso a destra o a sinistra di tale linea. È logico che, mentre la linea verde misura esattamente un chilometro, la linea che congiunge tutti i puntini rossi misurerà qualche metro in più. Da prove fatte personalmente, credo che il margine di errore, correndo su strade rettilinee, sia di circa 15 metri in più per ogni chilometro. Mentre effettuando delle curve, si potrebbero riscontrare dei metri in meno, soprattutto se si è scelto rilevamento smart. Guardate questa immagine. Qui invece vediamo, raffigurata con la linea verde, la strada che realmente abbiamo percorso. Mentre con la linea rossa vediamo il rilevamento possibile fatto dal GPS. Per cui è come se avessimo tagliato l'edificio che vediamo nell'immagine. Nei nuovi dispositivi Garmin esiste una funzione chiamata corsa su pista. Una volta inizializzato il dispositivo, con qualche giro iniziale, è possibile rendere il rilevamento quasi preciso. Dico quasi perché l'aggiustamento avviene soltanto quando si passa dal punto iniziale, mentre durante i 399 metri precedenti non è detto che il dispositivo segni esattamente il vostro passo. Dunque, GPS sì, ma con consapevolezza. Alla prossima!